Con una prova riservata ai tre anni, non corre l'uno, Dona VJ, restano in quattordici. Prima fila per Dollar Halter, Doria Letiz, Dora Begins, Dutunfum Jet, Divina Grimm, Distinto Lewis e Donerri. Donerri che ha problemi in fase di lancio. Seconda fila per Danubio FG, Dakar Zil, Dado Paul, Dumbo Jet, Desi del Ronco, Dei Love Dipa e Dei Dipa Club. Partiti, sbaglia il 13, Desi del Ronco con cautela, il 7, Distinto Lewis ad assumere il comando. Il quarto è Divina Grimm, che tiene subito ritmo sollecito. In seconda posizione Doria Letiz, a precedere Dora Begins, poi Dollar Halter. Primo quarto ultimato addirittura in 28,4 da parte di Divina Grimm, che adesso, che continua a passo sollecito, completa 500 metri sul piede dell'1,12 e mezzo. Nonostante ciò, Distinto Lewis si avvicina ai primi. Adesso gravita ai lati di Dora Begins in terza posizione. Problemi in curva per Distinto Lewis che si elimina. Nel frattempo la leader ha potuto rifiatare con 800 in un minuto, ha mosso dalla quarta posizione Dollar Halter che risale a largo e raggiunge in seconda posizione Doria Letiz, chilometro ultimato in 1,16. Riallunga Divina Grimm trascinandosi Doria Letiz e Dora Begins a largo il Sauro Dollar Halter. Fanno fatica ad inserirsi gli altri, ci prova Danubbio FG di dentro. 1,31 e mezzo, tre quarti di miglio, lo scatto di Dora Begins dalla terza posizione che va a caccia dei primi. Divina Grimm riallunga, prende chiaro margine l'allieva di Forino. Divina Grimm va a concludere alla grande nei confronti di Dora Begins e per il terzo il numero 9 Danubbio FG. Per la gioia di Angelone, media di 1,16 e tre. Per la vincitrice Divina Grimm, prima parte di gara sostenuta, ha rifiatato nell'intermedio e nessuno è stato capace di raggiungerla. Ha riallungato nel tratto finale di Divina Grimm, la figlia di Moses Robbe Mascrom, presentata ed interpretata da Raffaele Forino per i colori del signor Andrea Kunzo. Lo sprint di Dora Begins le è valso un valido secondo posto, mentre per il terzo è emerso Danubbio FG, che aveva una quota piazzata stratosferica, era quotato intorno al 18 piazzato e l'allievo di Giorginio è riuscito a far contento qualcuno.